Proverbo del giorno, la verità sta sempre in fondo del corso. Proverbo del giorno, la verità viene sempre a galla. Insomma, se voi decidevi però perchè mi lo comprà a tutta la sommosa torta. Se è tre giorni che vado a guardare il mio percorso, non trova niente. Mande i moni a tutti quanti dai!